Bentornati SOS Aghezzo TV, buonasera Beppe Marconi Buonasera, come stai? Mi sono infrancato, è andato via un po' di freddo Si sta veramente meglio, finalmente il gelo ci ha un po' abbandonato Sa me mi dà un po' noia, ho una certità Te sei ragazzo ancora qui, te fa noia Allora siamo a Ponte Alacchiazza Siamo a Ponte Alacchiazza Tra l'altro possiamo vedere anche questa mappa Perché ci ha telefonato l'amico Ferruccio che salutiamo Che insieme ad altri ci seguono sempre, li ringraziamo È vero, è vero, anzi, molte volte mi dà anche degli spunti E ha detto, quel Beppe non dice mai dove siamo Allora adesso con la massa No, io ci provo, ma te subito parti senza dire mai niente Allora, siamo a Ponte Alacchiazza Nell'area Guardate il punto preciso Di dietro All'area della festa Perché? Perché c'è in corso un cantiere qui, chiamiamolo così Del Consorzio di Bonifica Che ora si chiama? Non Valdichiana Alto Valdarno Cambiano i nomi Non dalle bollette Cambiano i nomi Ma sempre il Consorzio è Perché qui, vedi che ha tagliato tutta questa serie di tronchi Quei tiramenti che non fanno ma niente Che si parla inutilmente Visto che fanno C'è una cosa particolare Che hanno tagliato qui i tronchi più vicini al fiume Hanno finito i soldi Però guarda che cosa è successo Hanno lasciato in piedi Tutti questi alberi Anche grossi Che sono completamente a ridosso della linea elettrica Hai visto che è successo al sud Con il maltempo Eccetera Qui se viene un'ondata di maltempo Questi alberi rischiano che cadano Sulla linea elettrica E che quindi la interrompano E mi pare che come vedi Sono anche pendenti E quindi andavano tagliati Ma perché qui si va sempre in Italia Compartimenti stagni Ognuno fa il suo Il consorzio Alto Valdarno Ha il compito di ripulire i gretti dei torrenti E i lati dei torrenti Per far sì che non si creino alluvioni E quindi ha fatto E ha ripulito il gretto del torrente Poi Se rimangono a lato Piante così libere Rispetto a prima Che invece erano un po' salvaguardate Perché erano in gruppo Adesso invece prendono il vento in pieno E cadono giù Non è di loro competenza La competenza magari è di qualcun altro E tutto lì E qui chi gestisce l'aglio elettrica L'ener che provvede poi alla pulitura Sappiamo che insomma Non solo qui ma anche in altre zone Questi alberi sono sempre più a ridosso Della linea elettrica Quindi rischia che qui Persone rimangano senza elettricità Ma se tu ci fai caso nei boschi Generalmente Vedi quando c'è linea elettrica Che sono puliti Nella tipo strada sotto La linea elettrica Perché lei ne provvede Alla pulitura dei boschi In questo caso dovrebbe provvedere Non ti dico all'abbattimento delle piante Ma sicuramente all'abbassamento delle piante E a far sì che non siano sopra i fili In teoria dovevano partire da quegli alberi Più pericolosi E poi andare in qua Come vedi hanno tagliato di tutto Però come dici Quelli più ridosso Ti metti a fare il tecnico anche te Vuol dire che se partiamo da su Doviamo partire da su Va bene Però allora tagli anche quelli Ah bravo Dove ormai che c'erano Doveva tagliare anche quelli Invece purtroppo Quelli non sono Nel grattore del torrente L'impresa ha preso un appalto sicuramente Il lavoro Soltanto per i grattori del torrente E quasi come costa soldi Non te lo fa Però alcuni alberi Sono vicinissimi a quelli tagliati Sì chi ci voleva Non sono nel grattore del torrente Sono in cima Siamo in Italia Funziona così Però come vedi A parte qui ci sono dei pali elettrici Diciamo più sottili Quindi probabilmente anche meno importanti Però quello che si trova Vedi più giù Adesso vedete Sicuramente da quello dipende Questo sicuramente c'è a 3.000 C'è a 3.000 Quindi non è poco Ecco Quello laggiù sarà il 20.000 Addirittura Non vorremmo tornare qui Perché poi è andata via la luce Vedi c'è la pianta là L'ultima è stata tagliata in cima È stata abbassata Perché è vicina alla linea del 20.000 Questa pianta qui È sopra la linea del 3.000 Scusate tecnici dell'Ene Se dicono cavolate Ma mi sembra importante Questa linea Se viene giù A parte che può ammazzare qualcuno Ma i fili elettrici Sicuramente Sicuramente li tira giù E crea un disservizio Disservizio E come dici Ti è un po' cose all'italiano Bravo E poi l'Ene Neanche ti imborsa Perché dovrebbe Quei giorni che non ti dà la corrente Sospendere Anche il pagamento Delle canoni fissi Invece non te li sospende Poi si va verso il mercato libero Totale Non ci sarà più il mercato Cedicià Però Sarà sempre Qui a D'Alezzo cedicià N'Umbria dove sta te Non lo so No no Ancora sai che c'è dei passaggi Non è come dici te Ah sì? Sì Perché siete un po' Sottosviluppati Comunque c'è dei Non è ancora Ci saranno anche quelli Che sono nel mercato Non libero Che dovranno passare al libero Ancora non sono passati Ah va bene Ed è dappertutto è così No La proprietà delle reti È dell'Ene Quindi comunque Si compagna Che venda corrente Deve pagare Però sarà totalmente Liberalizzato Quindi non si sa proprio Neanche chi Protestare Povero mondo Va bene Da Ponte alla Chiassa Spiegando che qualcuno intervenga Ci vediamo domani Ciao